Bolzanis Museum nasce 5 anni fa per ripercorrere la storia delle architetture popolari e dei quartieri di Bolzano Ovest. Oggi ripercorreremo una parte della storia di Shanghai accompagnati da Felix, Fabian e Marco in una walk teatrale in lingua tedesca. La storia di questi luoghi è una storia di comunità che parlano tante lingue diverse. Conoscere queste lingue e fare i percorsi in lingua vuol dire anche avvicinarsi alla storia di queste comunità. Imparare la lingua vuol dire immergersi in una cultura diversa dalla tua.